Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea, un racconto d'amore, ma anche un viaggio di autoscoperta. Mostra come affrontare le difficoltà emotive, imparare a guardare oltre i confini autoimposti e aprirsi a nuove prospettive, esplorando temi come il perdono, la crescita personale e l'accettazione di sé. Leggere questo libro può offrire spunti per una riflessione personale profonda e un senso di ispirazione per affrontare le sfide emotive e relazionali nella propria vita. La trama del libro nel bozzolo dello scrittore Marco Solimano, casa editrice Bookabook, è la seguente. Luca ha sempre preferito rimuginare piuttosto che agire. Ha fatto lo stesso anche con Lucrezia, che da amore travolgente si è trasformata in una delusione bruciante. Ma nel momento in cui Luca rischia di smarrirsi tra i ricordi legati a lei, inseguendo una storia che riscrive nella sua testa senza riuscire a cambiarla, arriva inaspettatamente qualcuno che gli tende una mano e lo aiuta a tirarsi fuori, costringendolo a vivere davvero. Riuscirà finalmente ad aprirsi e a guardare con occhi diversi chi non aveva mai considerato? La storia di Luca è una storia d'amore e di sorprese e forse qualcosa di più. Un viaggio alla riscoperta di se stesso e del mondo che lo circonda. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.